C'è anche l'Elettro Smog, quale tema di riflessione in questa campagna elettorale a Pesaro. A portarcelo il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Andrea Biancani e che mette sul tavolo dal punto di vista politico una criticità emersa dopo che il governo nazionale ha sottoscritto un protocollo di intesa con i gestori di telefonia mobile per innalzare l'esposizione delle onde elettromagnetiche. Temi che Alleanza Verdi Sinistra ha affrontato in municipio la presenza di Beatrice Grasselli, Lisetta Sperindei e Alfio Turco, amministratore di Polab, che con l'assessorato alla sostenibilità di Maria Rosa Conti aveva fin qui stilato il piano di regolamentazione delle collocazioni delle antenne di telefonia sul territorio pesarese. I due focus principali su cui da un punto di vista politico e partitico è necessario focalizzarsi è la necessità o meno di proporre da parte di Fratelli d'Italia al governo questo aumento da 6 a 15 volt metro. Sappiamo che è passata questa legge in Parlamento a fine dicembre e poi nei 120 giorni successivi, non essendoci state molte manifestazioni da parte degli enti locali in Italia, alla conferenza Stato-Regioni purtroppo è diventata definitiva al 30 aprile. e quindi noi ci troviamo come unico paese in Europa ad avere un aumento all'esposizione da 6 a 15 volt metro ma con una misurazione che non è precauzionale rispetto a tutti gli altri paesi europei, questo ci tengo a sottolinearlo, nel senso che in Europa si misura l'emissione entro i 6 minuti, noi lo facciamo nelle 24 ore, questo significa che abbiamo una moltiplicazione fino al 300%, nel senso che noi possiamo avere durante la giornata uno sforamento da 15 a 45 volt metro. Posso testimoniare che la comunità scientifica è sicuramente preoccupata di questo innalzamento, anche perché l'innalzamento non è stato subito accompagnato da norme attuative che consentono dei controlli efficaci da parte delle agenzie, e quindi in questo momento c'è anche un po' di confusione sull'attuabilità delle norme. Trattandosi della salute dei cittadini dovremo approfondire la questione prima di portare a questo tipo di innalzamento e molto probabilmente sopra i 25 volt metro ci possono essere delle conseguenze, in particolare sulle categorie fragili che sono i bambini da 0 a 12 anni, con l'uso del cellulare e di altri dispositivi. È impensabile oggi l'idea di non avere reti e di non avere servizi. La differenza la fa il governo del territorio, come queste si sviluppano, si articolano e quanto si riesce a ottenere come obiettivo in termini di tutela della salute per i cittadini.